Iniziato ufficialmente il weekend dell'attesissima cinquantesima edizione del Trofeo Luigi Fagioli, oggi giornata di verifiche tecniche e sportive per tutti i 222 piloti iscritti. Per loro, da quest'anno, anche la possibilità di un turno supplementare, anche domani mattina nella fascia oraria che va dalle 7.45 alle 8.30, alcuni dei quali sono arrivati nella città dei Ceri già da alcuni giorni, con paddock fissato nella zona che si estende dal Parco del Teatro Romano fino al complesso della zona di San Benedetto, dove sorge il quartier generale. Sempre questa sera, nel suggestivo chiostro del San Benedetto, si svolgerà la serata celebrativa voluta dal Comitato Eugubino Corsa Automobilistiche e Aperta a Tutti. Saranno presenti per la rispettiva premiazione i vincitori dei concorsi di fotografia e disegno, abbinati al Trofeo Fagioli e numerosi ospiti, tra cui lo special guest Mauro Forghieri. Al grande ingegnere della Ferrari sarà consegnato il memorial barbetti, rappresentato da un busto di Luigi Fagioli, opera del maestro ceramista eugubino Maurizio Fumanti, donato dalle ceramiche CAF. Inoltre resta aperta fino al 25 agosto alla Galleria della Porta la mostra fotografiche di materiale storico. Sulla crono scalata, tornando alla gara, la cinquantesima edizione non poteva certo deludere tutti gli appassionati. Saranno infatti presenti tutti i principali protagonisti del campionato italiano velocità montagna, dal pluri vincitore Simone Fagioli al rivale di sempre Christian Merli, poi i giovani più talentuosi, tra questi Domenico Scola e l'ombro della Speed Motor Michele Fattorini, e i numerosi piloti ogubini che non hanno voluto mancare l'appuntamento di casa, oltre agli altri grandi interpreti della specialità, tra i tanti Omar Maiona, Domenico Cubeda e Piero Nappi, Fulvio Giuliani, Marco Gramezzi e Roberto Ragazzi. Domani mattina alle 10.30 scatta il semaforo verde delle due salite di prove ufficiali, mentre domenica il direttore di gara Fabrizio Fondacci darà il via alle due gare, a partire dalle 10.